Benvenuti in questo nuovo video di GTA V Quest'oggi ci sfidiamo a creare l'auto dei nostri sogni all'interno di GTA V Che è una cosa un po' particolare perché è pieno di veicoli tutti strani Ma noi cerchiamo di creare un veicolo che vorremmo nella vita reale Eri tu Fere? No! No? No, 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 no E' un'altra E questo è l'auto dei tuoi sogni Fere? Sì, beh, bellissima Molto bella, complimenti Allora, io mi parcheggio tipo qua In modo tale che non mi dia fastidio a niente e nessuno E inizio a vedere quale potrebbe essere l'auto da comprare Ovviamente poi si va a modificare E ovviamente voi deciderete quella che vi piace di più tra le due Ovviamente la mia Ovviamente la mia Allora, siamo ucciso a sessare l'auto elegante, l'auto sportiva, l'auto tamarra Deve essere l'auto ideale per te Eh, ma ce ne sono tante di auto ideali per me Non mi sento rappresentato da un solo veicolo La scelta è infinita, però Allora Vediamo Io sono su Southern Devo dire ragazzi che qua ci sono delle cose interessanti e importanti Però secondo me non è adatta allo scopo oggi Quindi schippo questa sezione Qua potrebbe essere Perché abbiamo certi veicoli veramente importanti Allora, però ragazzi Allora, voglio vedere anche qualche bella auto Perché non Vediamo un attimino qui Eh, ordina per prezzo Quindi mi metti quelle che costano di più Voglio una bidonata insomma No ragazzi No, non ci siamo, non ci siamo Dobbiamo andare su Legendary Motorsport Sono d'accordo Le mettiamo sul prezzo E cerchiamo di capire Quella che potrebbe piacerci di più Io penso di andare su Auto Sportiva O Auto Elegante Io dipende Allora, sono molto indecisa se andare sull'Auto Sportiva Che io adoro le Auto Sportive O se fare qualcosa di più stravagante Anche per cercare di vincere la sfida Perché vorrei puntare sull'originalità La grotta ragazzi A me piace veramente un botto Però vedete Anche questo stile Cioè È very cool Mi piace un botto questa A me non c'è niente da fare ragazzi E Ce n'è anche un'altra Da qualche parte Che adoro veramente un sacco Oddio anche questa è veramente bella Non dico i nomi così Non influenzo a fare Ma anche questa è bellissima No, no, anche io le sto guardando in silenzio Però io ti dico che sono tornata su Southern Perché avevo visto una cosa Che potrebbe piacermi tanto Questo potrebbe essere bello Forse è questa ragazzi, eh Forse è questa Mi piace veramente un botto Vediamo giusto un attimino Se c'è qualcos'altro Ma direi di partire da quella Lo sapete? Direi proprio di sì Partiamo da questa E la prendiamo proprio di questo colore Ok Hai scelto quindi? Sì, io ho scelto il veicolo Quindi sei andato sull'autosportiva Sono andato sull'autosportiva Alla fine Ho deciso di andare sull'autosportiva Sta diluviando Come se o è notte O diluvi In questo gioco ragazzi È una regola fondamentale Vado sullo stravagante Vai sullo stravagante Sì, sì, sì Ti ho paura di fare Sì, devi averne Steph Non ho idea Però effettivamente questa cosa È uno dei miei sogni Io ti ho sempre detto Che voglio guidare questo veicolo Non ti dico quale Perché ti lascio la sorpresa Quindi secondo me Sarà interessante Sono preoccupato Ci vediamo quando arriva il veicolo Ragazzi perché ci mette un po' Il mio veicolo è appena arrivato Nel garage del primo livello Quindi inizia ad entrare Sì perché ho comprato un pochino Prima di te Comunque volevo dire Che nella vita reale Allora quella sobria Di auto ideale È una Tesla Sì, certo Certo, certo Sono d'accordo Quindi tra quelle sobria Sarebbe una Tesla Però se fossimo in un mondo Dove hai soldi infiniti Ok E non hai conseguenze Di quello che fai Cioè tipo che non te la fanno esplodere Non te la rubano Non te la graffiano Non te la graffiano Eccetera eccetera Un'autosportiva incredibile Ci sta di brutto Secondo me Una bella Lamborghini Eh qualcosa del genere Lamborghini sono fantastiche Allora Però io ti dico A me piace Piacerebbe avere anche Questo che ho comprato Ok Ok Poi vedrai E lo capirei subito Quando lo vedi Perché te ne ho parlato Due miliardi di volte Ho già mezzo capito Ma è arrivata Non voglio soltanto spoilerare Le cose di fare Ma ho già capito Secondo me Allora Io posso già inizia Allora me lo dici Poco prima di Di uscire dal garage Cioè con l'auto pronta Allora Purtroppo Io so già che non vorrete Vederla Fere perderà Però Non perderò mai Stef non arriva Non arriva Non c'è Fere io sto già modificando Te l'ho comprata letteralmente Cinque secondi di tempo Dopo di te Non arriva Allora Non mi piace Perché è un po' tamarro Mentre questo invece Secondo me Ci sta Cioè ci può stare Ovviamente è semplice La voglio tenere Molto minimal ragazzi No io voglio esagerare Cerchiamo di fare delle cose Vedete delle modifiche Non troppo importanti No no è quello qua è questo Ovviamente poi potenziamo Il motore Tutto quanto Allora le marmitte Si parte da questa qui Questo qui è molto bello Devo dire Anche due qua così Non è male Anche quattro così E anche qui Oddio ci sta bene ovunque Allora devo dire che L'original non è male Però Allora io devo andare a cercare Un posto dove modificare Perché Non ho l'officina come se All'interno del mio garage Perché è una poraccia Ecco sul cofano Volevo lavorarci un po' Perché non ero del tutto convinto Mamma mia al momento È inguidabile Sta roba Allora di sicuro Questo è già più bello Quindi da prestazioni Confessure ragazzi È sicuramente più bello Di quello originale Però Forse Mi piace ancora di più così Che dite? No No dai Facciamo così Facciamo così Ci può stare Klaxon Musicali Facciamo No Te lo stai anche scegliendo Beh è l'auto dei miei sogni Dai non avrai mai però Il klaxon musicale Nella vita reale Perché no Come perché no? Perché mi devi mettere i limiti Nella mia vita Perché non esistono Non so se esistono Davvero si possono avere i klaxon Non penso che sia tanto legale Cioè pensa che se devi suonare Una persona al volo Parte poi la musica in loop Farebbe molto ridere Molto bello Allora Targa Ecco vedete Anche questi dettagli Sono importanti Bam Che stile Io non riesco ad entrare Nel posto della modifica Tettuccio È troppo grande Sto veicolo Ce la sto facendo Io ho molta paura Di quello che fa È molto ingombrante Mettiamola così Molto grande Allora ragazzi Questo potrebbe starci Ma dipende molto dal colore Quindi per adesso Non andiamo a scegliere Andiamo a lavorare sul resto Sul resto Non voglio Sapete che Siamo questi Però non mi dispiace Che sia molto corto Sapete che forse Lo otterrei così Anche se anche questo È molto No 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 Mi piace più standard Questo Devo essere sincero Allora lo spoiler Effettivamente Però dobbiamo valutarlo Vedendo in questo modo Da questa inquadratura Oddio Oddio Sto facendo tutti i vari potenziamenti Di motore Anche qua potrei deludervi Materrello originale Trasmissioni ovviamente da gara Dobbiamo farla comunque super prestazionale Le ruote Finestrini ovviamente scuri Perché ci stanno di brutto In questo tipo di auto Allora Tipi di ruote Direi lusso Cromati A me c'è sempre Un tipo di ruote Che piace un botto Ma devo dire che ci sta bene Anche questa standard Però altrimenti Le modifiche sono molto tamarre Le mie Queste ragazzi Queste sono troppo belle Non voglio esagerare Voglio renderlo abbastanza elegante Allora È il momento di provare a scegliere Il colore dell'auto Ed è un disastro Colore principale Per le scendi Sì 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 Non mi piace Così è bello È questo il nostro colore Ragazzi È questo il nostro colore Mamma mia Colore secondario Fatemi vedere quanto Importante Valutiamo eh Però Non mi è dispiaciuto Non mi è dispiaciuto Io sono concentratissima Steph C'è troppo da fare Anche Anche questi Non sono Malaccio Però Un po' tamarra Forse Questo potrebbe Sul colore Io sto decidendo Il destino di quest'auto Sento un po' di ansia Ragazzi Io vado così Ma io anche le livree Non so cosa dirvi Però fammela vedere bene Che questo veicolo È talmente grande Steph Che non mi entra Nella visuale Quindi un po' di difficoltà A capire Quello originale Abbiamo detto Che è proprio liscio così Potremmo Andare a mettere Oddio Allora così non mi piace Ma no Queste livree fanno schifo Terribili Così nemmeno Sono minimamente Dello stile che vorrei Quindi le schifo Così non mi dispiace Perché ha Questo effetto Qui Che mi piace un sacco Come stacca Vai Andata così Gomme antiproietili Tutta la vita Sono la cosa più importante Del mondo Gomme personalizzate Li andiamo a mettere Che comunque Ci stanno sempre bene Il colore dei cerchioni Sinceramente Non posso neanche sceglierlo Quindi direi che non è un problema Penso di aver finito Penso di aver finito Tutto quanto Fatemi ricontrollare Finito Allora Esci E vai Al primo livello del garage Esci dal veicolo Esci dal piano terra Esci dal piano terra Io ci metto ancora un pochettino Perché Va bene Va bene Ce ne vuole Ce ne vuole Ok Ok Sto cercando di autovalutarmi il veicolo Allora Ci mettiamo un attimino qua Sono soddisfatto Bene Devo dire che è veramente bello Ragazzi Ok Io sono molto soddisfatto Mi faccio un giretto Mentre ti aspetto Bam 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 Ti manca molto? Non credo Sono i colori Quindi Ok Fede Che c'è? Cosa cavolo hai fatto? Cosa vuol dire? Ho fatto l'hammer limousine Steph Bellissimo Ne voglio 5 di questi Nella vita reale Guarda che bello Fede fa schifo È bianco Con i riflessi rosa E anche sotto I neon rosa Non sono i riflessi rosa È bellissimo Eh boh Non si vedono bene Però in realtà li ho messi In realtà dovrebbe essere perlescente Che se non si nota troppo Dai Fede fa schifo No è bellissimo Steph Questo è l'auto dei miei sogni Io anzi Non è che la vorrei per me La vorrei proprio con l'autista Che mi porta in giro Con sta roba Giusto per essere Poco appariscenti Ok Allora questa è la mia Ok Vieni a vederla meglio Allora No io mi voglio mettere uno vicino all'altro Non ti vuoi parcheggiare bene? Allora aspetta Così poi facciamo il vero confronto Steph Ma è ovvio che hai perso È troppo classica la tua Ma cosa te Sogni troppo banale Capisci? Sogno troppo banale Certo Sogni Non lo so Cioè questa è l'auto Che vorrebbe davvero chiunque Cioè è bella Certo Ma guarda tutti i vari dettagli È bella Vedi come riflette il sole Ma allo stesso tempo è scura Ma non è nera È un colore un po' più particolare Tipo un argente oscuro Le ruote fatte proprio al minimo doc Cioè Ti accecca pure Al minimo doc? Cos'era? Scusa Stavo ascoltando la tua presentazione Al minimo doc Allora la mia invece Adesso ovviamente la devo presentare pure io È un mix tra Tamarro Ed elegante Non so dire tamarro No 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 Di elegante Non ha nemmeno un pixel È bianca È molto classica Quindi è anche elegante Poi ha tutti i vetri oscurati per la privacy Stef Cosa molto importante È tamarro e basta È bellissima È bellissima Allora io ti posso dire Che avessimo tutti i soldi del mondo Non la comprerei No io la comprerei Proprio Allora non la Merlimusine Ma la Mer si Assolutamente si Vuoi salire Stef Andiamo a fare un giro Posso salire da qua io Guarda che bello Guarda com'è bella dentro Guarda Fammi vedere Ci puoi fare i super party Qua ci sono tre bottiglie Un po' di vetri Che saranno rotti tra due minuti Perché guida a fare Guarda come guido bene È brutto anche dentro Non è vero È bellissimo Stef Non capisci nulla di auto Guarda Ti metti a parlare Ma non capisci Vedremo nei commenti che È che chiaramente hai vinto io Almeno ho fatto un'auto figa E invece tu hai fatto l'auto banale Cioè quella sportiva Quella sportiva classica Nera lavoro E chiunque sul pianeta Terra Appunto È appunto cosa È quello che mi piace Ma devi sognare in grande Non devi sognare in piccolo Eh beh Probabilmente costa di più L'auto sportiva Di questa cosa che hai tu No aspetta Costa tantissimo Non lo so sinceramente Come costa tantissimo Non ho idea Sono molto soddisfatta Fatteci sapere Quella che preferite E fare come sempre Rovina i video Io voglio fare un bel video Dove facciamo dei bellissimi veicoli Che vorremmo nella vita reale Eccetera eccetera Però non è andata in questo modo Comunque Se mai compreremo un veicolo In vita nostra Sarà una Tesla E né un Hammer Né un'auto sportiva Perché le auto sportive Sono scomode E te le rubano E te le graffiano E le fanno esplodere E ti spaccano gli specchietti E gli Hammer giganti Soltamari e brutti Cioè io mi vergognerei Di scendere da un veicolo del genere No io sarei fierissima Lo sappiamo È molto felice Sotto come sempre Come altri video Iscriviti al canale Campellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao Ciao